ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale io sono federica oggi vi parlo di acquisti di qualità questi top quality acquisti che mi concedo di tanto in tanto e i quali tengo con cura e utilizzo per molti anni parliamo quindi di capi un po trasversali di capi sicuramente abbastanza passepartout basic ma con quel tocco particolare la prima parte del video in collaborazione con lily silk è un sito che produce seta e cashmere di altissima qualità è un brand zero waste producono pochi capi e con gli scarti di seta vanno a creare appunto le mascherine per dormire scrunchies per i capelli eccetera eccetera quindi non c'è spreco realizzano i loro capi con fibre naturali utilizzano seta e cashmere di altissima qualità come la seta di gelso e il cashmere mongolo sono veramente eccellenti ho già alcuni capi di lily silk alcuni me li avevano inviati un annetto fa circa e altri li ho acquistati sono veramente pazzeschi la qualità è altissima possiamo scegliere di ricevere i prodotti in busta oppure sono presenti sul sito anche delle box regalo ad esempio vi faccio vedere questa è tutta in cartone arriva tutto poi con un nastrino che adesso io ho spacchettato in seta con il brand logato sopra è veramente elegantissimo la prima cosa di lily silk che vi mostro è la famosissima federa eccola qui spero che si veda è questa qui non è la prima io dormo sulla federa di seta sempre di lily silk è la seconda io prendo sempre questo blu scuro blu nevi ma è presente in tantissimi colori prendo il blu nevi perché si abbina bene alla mia camera da letto che è sui toni del legno grigio ghiaccio e blu scuro i benefici di dormire sulla seta benefici per i capelli perché evitano l'effetto elettrostatico rimangono molto più lucidi benefici per la pelle perché la seta differenza del cotone non assorbe i prodotti di skin care e aiuta a aiuta anche le rughe nel senso che il cuscino in cotone tende più ad arricciarsi formare delle rughe quando ci svegliamo al mattino mentre per quanto riguarda la seta questo non succede io mi trovo molto bene con le federe in seta è sicuramente una chicca per la vostra camera da letto sia a livello estetico che funzionale ma è anche un bellissimo regalo da fare a un'amica il secondo capo che voglio mostrarvi oggi è la mia camicia e la camicia che indosso mi sono innamorata follemente questa camicia è presente sul sito anche in nero e la voglio assolutamente anche nera è una camicia meravigliosa in pura seta i capi non li ho stirati perfettamente perdonatemi ma veramente ho pochissimo tempo a disposizione vi garantisco la qualità è altissima cioè veramente altissima sono meravigliosi vi durano anni e anni e anni questa camicia ha tutti i bordi in swarovski ha tutto il giro della manica in swarovski tutto il bordo del colletto e tutto il bordo frontale è una camicia meravigliosa ve la faccio vedere qua vi faccio vedere un po gli unboxing e anche l'indosso è una camicia che possiamo tranquillamente mettere sotto un tagliore nero sotto un tagliore bianco per rendere tutto ancora più luminoso ma sta benissimo con qualsiasi tipo di colore quindi essendo un colore neutro possiamo abbinarla a jeans a capi infiniti a gonne al beige a qualsiasi cosa veramente quindi io ovviamente vi consiglio sempre di investire quei soldini in più per prendere capi di qualità ma che riuscite a sfruttare nel tempo questo è sicuramente un capo basic con un dettaglio diciamo molto elegante molto particolare rifinita benissimo io dei capi di lili silk indosso una taglia media di tutti i capi mi trovo molto bene ed è la mia taglia rimanendo sempre in tema basic come altro capo ho scelto il nero quindi ho preso una camicia molto più classica con anche lei la bottonatura a giro collo per garantirvi qua c'è scritto 10 quindi se doveste trovare le taglie 10 12 14 la mia è una 10 questa la bottonatura completa ve la faccio vedere qui ma meglio la vedrete nella clip anche lei in pura seta è una camicia che a me piace molto utilizzare leggermente aperta con un layering di collane oro colpan in total black magari anche con azzardando anche un cappotto in autunno nero oppure spezzarlo magari con un cappotto color cammello sta benissimo sotto il taglio bianco per andare a contrasto o fare un total black elegante un po alla giorgio armani tutto nero che dirvi sono sicuramente capi versatili potete metterli anche tranquillamente con una sneakers questa camicia un taglio leggermente più over ma proprio leggermente è comoda e morbidissima e appunto la vestibilità è regolare come ultimo capo ho scelto un capo in 100% cashmere mongolo questo è in taglia media anche lui ho scelto un'altra colorazione neutra vi devo dire che per lo più troverete capi iconici capi che abbinerete con rate che bello è un maglioncino apolo a v ok senza bottoni in puro cashmere lunghezza regolare ma possiamo andarlo a rendere un po più crop in beige è morbidissimo è rifinito super super bene e che dire anche lui capo che possiamo mettere sul pantalone elegante tranquillamente per andare in ufficio possiamo metterlo per anche per un evento rendendolo un pochino più elegante magari con una collana un po più importante un pantalone elegante con la piega sopra una gonna in saten come si portano adesso o in pura seta che trovate sempre su lily silk hanno questi capi che vi ho mostrato sono assolutamente utilizzabili e fribili a 360 gradi ma qual è la cosa più succosa è che sul sito di lily silk dall'8 agosto all'8 settembre troverete diverse promo tra cui il poter acquistare un secondo capo scontato al 20% ma non finisce qui con il codice che vi lascio qui e che trovate anche in infobox fed12 avrete un ulteriore 12% di sconto su tutto anche in aggiunta alla promo quindi è cumulabile vi consiglio di acquistare qualche capo chiave per il vostro guardarobo spero che questa promo vi sia veramente utile io ringrazio tantissimo lily silk per aver collaborato a questo video vi lascio tutti i link dei capi che vi ho mostrato giù nell'info box oltre al sito di lily silk andiamo avanti con una cosa che bramavo da tempo l'ho trovata sul sito di snips o snipes non so come si chiami non ho mai comprato su questo sito mi è arrivato è andato tutto bene tutto è stato tracciabile il pacco ci ha messo 5-6 giorni ad arrivare e ho comprato un paio di scarpe parliamo di adidas allora queste scarpe sono un po tra le scarpe tra le sneakers più virali di quest'ultimo anno e ovviamente cosa fanno moltissime persone comprano e rivendono a un più diffuse su questo sito li ho trovati al prezzo originale inoltre mi sono iscritta e ho avuto anche un 10 per cento di sconto il che non fa male magari se vi interessa ve lo dico hanno diverse scarpe tra virgolette virali passatemi il termine io sono una patita se mi seguite di stan smith di solito è la mia scarpa diciamo che ho sempre utilizzato molto semplici non amo le cose troppo elaborate o meglio sì qualche ogni tanto sì però nel quotidiano preferisco le cose basic e volevo da tantissimo tempo le adidas samba e le ho trovate ragazze che belle che sono anche da mettere ad esempio con la camicia nera un jeans e sotto mettiamo le samba magari una giacca oversize in ecopelle insomma le trovo molto versatili perché comunque è una sneaker si sportiva ma anche molto molto casual che si adatta benissimo a qualsiasi outfit ovviamente c'è la versione anche nera ma io prediligo sempre la sneakers chiara non so per quale motivo anche in inverno sono in pelle io ho acquistato il mio numero abituale quindi il 38 perché poi tendono un pochino a cedere e non mi piace che mi facciano il piede troppo lungo è giusta giusta il 38 però diciamo comoda la porto tranquillamente il prezzo era di 120 euro quindi prezzo di listino e sono bellissime le cercavo da un sacco purtroppo il 38 non si trovava in giro se volete se magari anche voi siete alla ricerca di delle sneakers un pochino rare magari su questo sito potete trovarle che dire spero che vi piacciono io le adoro un altro acquisto che ho fatto è sul sito di vogue era tantissimo tempo che desideravo una felpa di vogue di quelle ricamate quelle un pochino più costose perché ci sono anche con la stampa ma io volevo quella con la scritta ricamata mi sono decisa a comprarla e ho scelto anche qui una variante direi piuttosto fruibile e che non passerà facilmente di moda perché è il color panna con il logo impunturato in nero vi dirò è bellissima mi piace un sacco infatti vorrei prenderne un'altra il prezzo di queste si aggira intorno alle 139 euro adesso forse non so se c'è qualcosa di scontato sul sito ma anche con i saldi non scende di molto però è fatta veramente bene c'è una felpa stupenda che potete abbinare con qualsiasi capo è veramente sia sportiva che elegante allo stesso tempo a me piace abbinare queste felpe anche con le gonne in raso o in seta anche sopra uno slip dress per dargli quel tocco un pochino più sportivo con magari l'adidas samba sotto con il pantalone nero insomma ha infinite variabili di abbinamento questa veste over c'era proprio scritto sul sito infatti ho preso una taglia s ha una vestibilità abbondante a me non piacciono i capi esageratamente over già lo sapete ovviamente vi regolate in base a come vi piace la vestibilità però la s ha una bella vestibilità abbondante è veramente stupenda se c'è ancora in collezione vi lascio il link in infobox altrimenti vi consiglio comunque di dare un'occhiata ai nuovi arrivi sul sito perché ogni anno io lascio il cuore su due o tre felpe infatti credo di comprarne ne vorrei prendere una su un colore diciamo colorata adesso vediamo un attimo magari ve la mostrerò in un prossimo video e questa borsa ci ho fatto tutta l'estate praticamente me l'ha inviata un brand italiano un brand made in italy anzi romagnolo sapete che la romagna è stata colpita da quest'anno insomma da un bell'alluvione anche in italia sta succedendo il finimondo questa cosa mi dispiace molto ma ho conosciuto seguivo già da un annetto su instagram questa azienda che si chiama tommassini mi hanno scritto loro chiedendomi se mi andava nel mese di luglio di fare una collaborazione non vi dico la mia felicità fate conto che questa azienda è un'azienda assolutamente artigianale composta da sole donne è un'azienda attenta a ogni minimo dettaglio e alla fine queste borse che adesso vi farò vedere la borsa che ho scelto io sono personalizzabili cioè se c'è un dettaglio o una borsa che voi volete in un colore specifico voi glielo scrivete prendete contatti con la titolare che è dolcissima vi fa praticamente la borsa su misura come la volete voi se volete cambiare un dettaglio mettere le rouge cambiare un colore piuttosto che un altro è a disposizione perché un'azienda completamente femminile artigianale che realizza ogni borsa a mano e avevo anche una foto cartolina che tengo giù in cucina l'ho conservata con la foto di tutte le dipendenti di questa azienda non è un'azienda grande un'azienda piccola e quindi veramente la supporto con piacere questa parte del video non è in collaborazione ho scelto io di farvi vedere questa borsa forse ancora attivo il mio codice sconto non affiliato non ci guadagno assolutamente niente vi sconta 10 euro faccio vedere questa questa è la borsa che ho scelto io e ce l'ho in utilizzo da due mesi è stupenda è in color cuoio poi ha questa fascia metallizzata in bronzo la parte centrale color panna e la scritta logo oro poi ha la metalleria oro è molto robusta cioè proprio io le borse le tengo malissimo ha i piedini sotto quindi non l'andate a rovinare quando l'appoggiate anche la tracolla guardate che bella all'interno è tutta foderata in maniera impeccabile ve la apro guarda c'è dentro tutta la mia roba è logata ha la taschina dove io metto sempre tutte le chiavi della macchina di casa eccetera eccetera è fenomenale sono veramente contenta di farvi scoprire questa azienda le borse sono tutte meravigliose e tenete conto che io anni e anni fa non più da sono diversi anni ormai prendevo le borse di gas ad esempio di jujoo nulla a togliere sono veramente carine ma erano borse in plastica sono borse in plastica che io mettevo nell'armadio l'anno dopo sbriciolava completamente queste sono borse fatte in pelle però è una pelle sostenibile in che senso è una pelle che deriva dalla macellazione di animali quindi la pelle di quegli animali viene ritirata oppure sono stock di pellami già presenti insomma l'azienda è veramente attenta a ogni dettaglio i modelli delle borse sono uno più bello dell'altro i colori trovate i classici e quale io sapete sono affezionata ma trovate anche dei colori sfiziosissimi tipo lilla giallo lime il verde salvia ci sono tanti modelli tanti colori vi consiglio di provare a investire su una borsa di tommassini uno per sostenere un'azienda made in italy e per provarne per testare realmente la qualità perché alla fine se ci pensiamo i brand super lusso che vendono le loro borse a 3 4 5 mila euro dicono che le fanno in modo artigianale e io mi domando certe volte allora questa borsa quanto dovrebbe costare non lo so hanno dei prezzi secondo me davvero contenuti per quello che valgono le borse effettivamente costano appunto quanto una borsa di brand tipo guest luge spero che vi abbia fatto piacere trascorrere un po di tempo in mia compagnia ebbene sì anche io sono attratta magicamente dal lusso sapete che io compro sia nel makeup che nell'abbigliamento da 0 a 100 nel senso non ho pregiudizi di nessun tipo il lusso piace a tutti secondo me a meno credo e quando si trovano comunque delle cose valide al giusto prezzo secondo me vale la pena investire e togliersi anche qualche sfizio perché ragazzi alla fine la vita una io vi mando un bacio gigante noi ci vediamo al prossimo video da federica la donna qualunque